Manu, I love you. Il messaggio è sicuramente piacevole. Il modo e il luogo usato per esprimerlo sono invece estremamente deplorevoli. Da qualche giorno queste parole d'amore, insieme a cuoricini e nuvolette, fanno bella mostra sulle scale della torre normana di Acceroli. La stessa torre che per me si è mostrato al mondo intero lo splendido volto del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Subito dopo l'assassinio del primo cittadino, una gigantografia di Vassallo fu esposta sulla facciata anteriore della struttura monumentale e lì è rimasta per lungo tempo. Ora l'ingresso della torre si trova deturpato dalla scritta d'amore in maiuscolo, fatta con vernice di colore scuro in spray. Il più semplice ed innocente messaggio d'amore, probabilmente destinata ad una bella Emanuela, esplosa pochi giorni da San Valentino, festa degli innamorati. Nulla di strano dunque se non fosse che l'atto mandalico copre parte della scalinata esterna della torre, al fianco dell'entrata principale. Comprensibile la rabbia della comunità locale, con in testa il sindaco Stefano Pisani. Un esempio banale ve lo posso riportare dal mio territorio dove dei ragazzotti si sono presi la briga per annunciare il proprio amore alla fidanzata di imbrattare la scala della torre Angioina sul porto. Questa cosa mi fa molto arrabbiare. Ovviamente abbiamo subito individuato chi è e lo andremo subito a redarruire. Per il San Valentino si sono preparati? Si sono preparati male perché bisogna... Io vorrei che questo ragazzo invece facesse della sua volontà di esprimersi un'arte. Però questo è anche sintomo di un disagio. Forse non sappiamo più dare un modo di esprimersi alle nuove generazioni. Andando a Milano, preso la metropolitana, ho visto giovani ragazzi che passano tutto il proprio tempo anziché a parlare con il vicino di posto a guardare il proprio iPhone, il proprio telefonino. Questo è un fatto grave. Quindi forse è un eccesso vietare a Carnevale e rimascherarsi. Però forse le nostre generazioni devono essere seguite meglio, devono essere seguite all'interno delle scuole, nelle famiglie. Le famiglie devono recuperare quel ruolo che hanno sempre avuto. Quello di far crescere in modo consapevole la giovane generazione.